Bentornati bambini! Sono scesa ancora dalla mia casa nel bosco. Io e la mia Edera siamo venuti a raccontarvi delle altre favole. Volete ascoltarle? Adesso vi racconterò la favola del pulcino nero. Quasi, quasi un copione per cartoni animati. Un gatto nero camminava tranquillo per i fatti suoi. Un pulcino nero pigo l'allegro nel giardino. Il gatto nero vede il pulcino nero e il pulcino si è accorto che il gatto lo ha visto. Il gatto fa finta di non aver visto il pulcino. Il pulcino sta che il gatto ha fatto finta di non averlo visto e il pulcino fa finta di becchettare qua e là. Un cane nero sonnecchia preoccupato nel giardino. Ha visto il gatto nero e ha visto il pulcino nero. Il cane nero fa finta di non aver visto il gatto il pulcino. Il cane chiude gli occhi per sonnecchiare nel pomeriggio caldo. Un uomo nero passeggia e fuma il suo sigaro. L'uomo nero ha visto il cane. Distratto, l'uomo tira un sasso al cane. Il cane si scuote ma continua a sonnecchiare. L'uomo dà una tiratina al sigaro e tira un altro sasso al cane. Il cane abbaglia fastidito. Il gatto si spaventa alla bagliare del cane. Il pulcino vede il gatto spaventato e si spaventa anche lui. Il gatto esce dal giardino saltando dal muretto di ricensione. Il pulcino, per involontaria imitazione, cerca di inseguirlo ma ha paura di saltare. Non ce la può fare, non ce la fa. L'uomo fuma il sigaro e pensa ai fatti suoi. Non ha visto la scena. Avrebbe sorriso. Il cane in agitazione vede il pulcino e si mette ad abbagliare. L'uomo ordina al cane di stare zitto. Il pulcino si nasconde dietro una pianta di pomodori. Il cane si zittisce e riprende sonnecchiare. L'uomo comincia a passeggiare. Si accorge che il pulcino becchetta i pomodori e lo caccia via. Il pulcino scappa. Via. Pigolante. E' sempre più spaventato. Il gatto sente i pigolini del pulcino e si riaffaccia sul muretto. Il pulcino cerca di riprendere il suo cammino con indifferenza. Il gatto salta giù dal muretto e rientra nel giardino. Il cane si rimette ad abbagliare e l'uomo ricomincia a ordinargli di stare zitto. Il pulcino scappa via. Dietro una pianta si nasconde. Scavando sotto una pesante melanzana caduta a terra. L'uomo spegne il sigalo e si sdraia sotto un melo. Nella ritrovata quiete, il gatto riprende la sua ispezione del giardino. Il pulcino riprende a pigolare e a brocchettare i pomodori e le melanzane. Il gatto osserva il pulcino. Il pulcino comincia a camminare lentamente verso il gatto. Il gatto lo osserva incuriosito. Il pulcino gira attorno al gatto. Il gatto gira intorno a se stesso per osservare il pulcino. La sua testa insegue il pulcino e la sua coda insegue la sua testa. Il pulcino, non più spaventato, fa un salto sbattendo le sue piccole ali. Il gatto istitivamente fa un salto e acchiappa il pulcino. Il pulcino pigola agitatissimo. Il cane, nervosito, salta addosso al gatto. Il gatto lascia libero il pulcino e scappa via. Il cane abbaia inseguendo il gatto. Il pulcino ritorna alla sua pianta di melanzane nascondendosi allo sguardo dell'uomo. L'uomo, che si era ormai addormentato, balza in piedi e batte la testa contro un ramo dell'albero. L'uomo urla il cane, gli ordina di fermarsi e di fare silenzio. L'uomo insegue il cane, lo raggiunge e lo lega alla catena. Il gatto riprende la sua ispezione. Il pulcino è nascosto di nuovo dietro a tre grossi comodori rossi. Appena poggiati per terra, il gatto raggiunge il pulcino tra i comodori. Il pulcino fa finta di niente. Il gatto imita il pulcino. Poi, con un gesto brusco, lo fa scappare. Con un balzo lo acciuffa nuovamente. Il pulcino pigola, con violenza, ma nessuno lo soccorre. Il gatto gioca con il pulcino, rotolandosi sul terreno. Poi, una foglia gli cade sugli occhi, lo spaventa e lo fa saltare addosso all'uomo. L'uomo irritato tira dei sassi al gatto. Il gatto, con due balzi, è già fuori dal giardino. Il pulcino si nasconde sotto la melanzana. Il pulcino e l'uomo sono padroni del giardino. L'uomo, finalmente, sveglia e riposato, prende gli attrezzi e va a raccogliere le melanzane. Scopre il pulcino. Il pulcino fa finca di niente e gli volta alle spalle, camminando lentamente tra gli ortaggi alti. L'uomo afferra il pulcino. Il pulcino, piccolo e disperato. L'uomo depone il pulcino dentro il pollaio. Il pulcino è triste per la libertà perduta. L'uomo riprende il suo lavoro. Il gatto rientra nel giardino. L'uomo continua il suo lavoro. Il gatto riprende la sua ispezione. Il gatto non trova il pulcino. Il gatto si avvicina all'uomo che, con un gesto violento, lo scaccia. Il gatto si avvicina al cane. Il cane abbaia al gatto. L'uomo continua il suo lavoro. Il gatto, senza rispondere al cane, riprende a controllare il giardino. L'uomo termina il lavoro, è stanco, rientra nella sua casa. Il cane abbaia all'uomo che, prima di rientrare, lo slega. Il cane ora può girare liberamente nel giardino. Il pulcino, tranquillo tra le galline, pensa alla perduta libertà. Sogna, sobbalzando di frequentare le zampe del gatto, che ogni tanto sembrano stringerlo. Il cane però è legato, non può aiutarlo. L'uomo è troppo stupido per capire. Il cane, di nuovo libero nel giardino, ricapitola la situazione. Il gatto è confinato sul muretto. Il pulcino è rinchiuso nel pollaio. L'uomo si è chiuso dentro casa. Il cane è soddisfatto. Il gatto salta dal muretto. La luna è sulla testa. Rassentando sente i pigolì del pulcino nel pollaio. Il cane è libero nel giardino, ma fa finta di non vederlo. Il gatto fa finta di non vedere il cane. Il gatto ama molto quel giardino, ma ancora di più ama quel muretto. La notte potrà offrirgli tante avventure. L'uomo è chiuso dentro casa. Si appresta ad andare di notte a riposare. Ogni tanto si passa la mano sulla testa. Non pensa al pulcino, non pensa al gatto, non pensa al cane. Non sa che la luna illumina la sua casa, il suo giardino e tutte le sue creature. Che strana, bizzarra storia che vi ho raccontato, vero? Ma il bosco, il posto dove vivo io, è pieno di animali. Nel mio bosco c'è anche un opossum e altri animali del bosco. Un opossum incontrò una volpe, si inchinò e la salutò. Ma la volpe, con la sua pelliccia rossa, non rispose e si mise a guardare i merli. L'opossum, sgattalo io via, contento comunque. Un merlo guardò la volpe e senza dirle niente la riproverò. La volpe si mozzicò a lungo la splendida coda. Non sapeva cosa pensare. Venne un improvviso temporale e lei cercò solo di proteggere la sua coda dalla pioggia. L'opossum, nella sua tana, approfittò per raccontare le fiabe ai suoi cuccioli. Raccontò la fiaba di un opossum che aveva incontrato una volpe. Era una giornata luminosa e tiepida e la volpe, bella come una regina del bosco, era di ottimo umore e si inchinava davanti ad ogni animale che incontrava. L'opossum, quel giorno, aveva avuto l'onore di bere del succo di mirtillo insieme alla volpe. Era buono quel succo, era aspro, ma era anche molto dolce. La volpe ne offrì generosamente a tutti, ma un piccolo scoiattolo sdegnosamente risiutò il succo di mirtillo. Poi, rimproverato da una cincia allegra, si rincantucciò nella sua tana nel tronco di un albero. Un terribile temporale spinse la volpe dentro la tana ricoperta di foglie, di rami e di sassi. I suoi piccoli furono contenti di vederla rincasare così presto e le chiesero di raccontarle delle storie. La volpe raccontò la storia di uno scoiattolo che in un grigio mattino degli ultimi giorni d'inverno andava in giro a salutare tutti gli animali e a chiedere di fare brindisi con il succo di noce. Anche alla volpe volle assaggiare quel succo e lo scoiattolo, contento, gliene offrì una grande quantità, tanto che tutti quanti stavano per ubriacarsi. Sul più bello della mattinata, però, una tartaruga li aveva rimproverati e si era rifiutata di bere con loro succo di noci. Un piccolo posso aveva fatto notare la tartaruga che il suo cattivo umore aveva rovinato la festa degli altri abitanti del bosco e con la sua scortesia aveva offeso lo scoiattolo. Per ripararsi dal temporale alla tartaruga si ritirò dentro casa. Il piccolo scoiattolo scappò dentro la sua tana, nel tronco di un albero, e tutto contento progettò con i cugini scoiattoli le avventure per l'indoani. Lo scoiattolo disse che era ora di organizzare un comitato per la pace degli animali del bosco. I cugini applaudirono e fecero una grande festa. 12 giorni alla scalattina e una limonata va via la mattina, 20 giorni alla fantasia e lo zucchero non va mai via. Gli scoiattoli chiamarono tutti gli animali e con un gran scompiglio dissero che bisognava organizzare un comitato per la pace delle creature del bosco. Tutti furono contenti dell'idea, però qualcuno cominciò a dire che era un comitato per essere vero e deve avere un presidente. Allora, un allocco un po' assonnato, disse che il presidente lo poteva fare la tartaruga, ma tutti dissero che la tartaruga doveva fare il presidente. Ma la tartaruga non aveva sentito niente. Allora, un picchio andò a bussare sul carapace, ma lei si chiuse ancora più dentro. A questo punto, su consiglio di un bufo, tutti si zittirono e un cinghialetto lasciò davanti al bufo cinque foglie di tenero radicchio. In silenzio tutti aspettarono finché la tartaruga, tranquillizzata dal silenzio, aprì gli occhi e vedendo l'insalata tirò fuori la testa per mangiare. Fu allora che tutti la proclamarono presidente del comitato per la pace del bosco. Da allora in quel bosco tutti gli animali vivono d'accordo, perché lì la pace è voluta da tutti quanti ed è fatta rispettare dalla tartaruga. La tartaruga, infatti, se ne andava a spasso, contenta e gli animali la salutavano. Buongiorno, signora presidente del comitato della pace del bosco. E lei rispondeva, buongiorno carissimi amici del bosco. Ogni volta che mi incontro mi viene allegria, ma per prudenza mi chiudo dentro casa mia. Tutti ridevano e tutti continuavano a fare il loro mestiere di animali del bosco che aspettano la primavera e nella noia dell'inverno si raccontano storie di animali che non possono amarsi. Anche se questo, gli animali del bosco, non sanno cosa significhi. Raccontano che non potevano fare altro che incontrarsi e azzuffarsi e se non uscivano con la pelliccia graffiata e le ossa rotte, finivano per rientrare nella tana a raccontare le loro avventure, con i loro cuccioli e i loro cugini. La tartaruga però dal suo ovuscio controllava che il bosco rimanesse in pace e che i suoi animali vissero tranquilli. Cinque gocce di rubagiada fanno inclinare la margherita, cinque cristalli di brina fanno gelare tutte le dita, le dita delle mani sono dieci, disse la sua quando io le feci. E anche la tartaruga con il suo andare lento lento lemme lemme è un bravissimo presidente. Vediamo un'altra storia per quest'oggi. Il bambino di Norenberga viveva con la mamma, il papà e una sorellina più grande di lui o forse più piccola. Il bambino di Norenberga si chiamava Hans, non è originale, non ha l'importanza. Hans amava mangiare le mele. Quanto gli piacevano le mele, gli piacevano in tantissimi modi, in tutti i modi possibili e immaginabili. Crude, cotte, frullate, grattugiate con il lato e con il cacao, fritte al forno, nella torta, nel riso, nello yogurt, nella marmellata, nello strudel e sulle bistecche. Mischiate con le patate e mischiate con un'altra frutta. Insomma, voi dite un modo e io rispondo che ad Hans in quel modo di mangiare le mele piaceva. La mamma non era contenta che Hans mangiasse le mele con la bistecca, perché sapeva che inevitabilmente avrebbe mangiato le mele e rifiutato la carne. E così succedeva con le patate che occasionalmente venivano corte con le mele. Lo stesso, trattandosi, erano destinati a ricevere i pezzetti della Macedonia di Hans e non riconosceva come pezzetti di mele. Questa passione creava qualche problema. Infatti, non solo in casa vi era costantemente quello stagnante odore acri di mele che potreste sentire se frequentate in retrobottega di un fruttivendolo, oppure se prendete uno di quegli stravaganti alberelli deodoranti per le automobili, ma tutti quanti in famiglia erano costretti ad adattarsi alle abitudini alimentari di Hans. Tutta la sperma veniva quindi fatta in rapporto all'abbinamento possibile con le mele. La mamma e il papà, poi, per evitare di sprecare le bistecche, si sentivano obbligati a mangiarle, anche se non ne avevano voglia. Quel che è peggio è che anche la sorellina più grande, o la più piccola di Hans, non saprei dire, era costretta a mangiare i cibi che potevano accostarsi con le mele. Lei chiudiava le mele e chiamava tanto mangiare gli ananas ed era ghiotta di spremute di mango e di papaya. Ora, chi abbia insegnato la bambina di Norimberg a mangiare ananas e a bere spremute di mango e di papaya non si sa. Ma sapete come sono i bambini? Una continua sorpresa. A dire il vero, sembra che a scuola un giorno qualcuno avesse tenuto una lezione sulla frutta tropicale e la piccola Marliss fosse rimasta molto attratta dal modo in cui una bellissima ragazza caraibica sbucciava gli ananas e il simpatico barba di cucinasco preparava i cocktail a base di frutta esotica. Da quel giorno si dice che Marliss, proprio lei, che guardava sempre con disprezzo tutto ciò che era da sbucciare e tutto ciò che conteneva dei semi cominciò a esercitarsi nella sbucciatura dell'ananas che poi pretendeva di servire a tavola ai genitori o nelle festicciole pomeridiane agli amici scolpito di mille formi di animaletti o di lettere dell'alfabeto accompagnato da bicchieroni di frullati di frutta rosata e giardastra. I genitori dal principio furono contenti e anche il negoziante gongolava per la varietà dei prodotti che vendeva grazie ai due piccoli divoratori di frutta. Dopo qualche settimana però la mamma e il papà di Marliss e Hans si resero conto che i guai si erano moltiplicati perché in effetti mentre le mele potevano romatizzarsi con tanti cibi la frutta esotica poteva al massimo contribuirne nella mentalità tipica di quella familiola di Norimberga alla buona riuscita di qualche dolce o di qualche stravagante risotto. Mentre Hans si limitava a mangiare le mele la piccola Marliss pretendeva di passare la notte a preparare i suoi fruttini da distribuire l'indomani ai compagni di scuola o di gioco. Anche il frigorifero cominciò a lamentarsi perché Marliss cercava di trasformare in ghiaccioli o in gelatina i pezzi di frutta dalle mille forme e voi sapete come sono i sopportabili frigoriferi? Apri e richiudi. Riapri e dimentichi di chiuderlo. Il frigo cominciò a ronzare senza interruzione e era anche a raffreddare molto poco i cibi tanto che la mamma dovette chiamare un tecnico che ascoltò i mugugni dell'apparecchio e le suggerì di acquistarne uno nuovo. Il papà di Marliss, giovane abitante di Norimberga non fu contento della notizia e borbottò qualcosa che doveva significare bisogna avere più cura delle cose che utilizziamo. Il frigorifero non è fatto per giocare o per fare esperimenti Hans ascoltò molto soddisfatto le parole del papà che per lui erano chiarissime e fece anche dei plateari ceni di assenso. Marliss continuò con i suoi esperimenti era una bambina di Norimberga. Presto però la scuola finì e i suoi compagni andarono in vacanza. Marliss, non riesco proprio a ricordare se era grande o più piccola di Hans si rattristò ormai in casa si rifiutavano di mangiare i suoi frullatini, le sue gelatine, i suoi ghiaccioli e lei si lasciò sfuggire un giorno una frase per Hans incomprensibile. Qual è il senso della vita? La mamma e il papà cercarono di spiegarle che sicuramente non era mai in una sola cosa come i suoi esperimenti e che bisogna trovarla in tante piccole cose che giorno dopo giorno avrebbero scoperto. Questa battuta sul senso della vita fece riflettere il piccolo Hans che mentre sbocconcellava una mela pensò è necessario fare attenzione perché se lo scopre Marliss questo affare a me non lascia niente devo trovarlo io. Hans cominciò a guardare in ogni angolo e si soffermava a controllare bene ogni cosa che gli appariva davanti. Immaginate voi dalla polvere agli alberi dalle automobili alle scarpe dai fiori alle nuvole dai vecchietti alle ragazzine dalle mele al violino del suo papà. Ditemi una cosa che poteva affacciarsi alla vita e all'udito di Hans e vi risponderò tranquillamente che Hans aveva nell'elenco delle cose che possono costituire il senso della vita. Passarono cinque giorni in cui Hans alternò la passione per le mele con la ricerca del senso della vita. Il mattino del sesto giorno esausto svelò il suo segreto al primo compagno di giochi che incontrò nel parco. Il piccolo amico sorrese poi con un modo di fare da persona adulta spiegò il senso della vita è un'ombra. Hans fece un senso un cenno di assenso ma non era del tutto convinto dopo pranzo vedendo sua sorella disperata e ormai completamente inattiva si chiese come fare a catturare un'ombra. Tanto per cominciare si disse potrei tentare con quelle che stanno ferme. Provò. Così provò e riprovò a prendere tutte le ombre che vedeva ma per quanto facesse queste gli saltarono sul dorso delle mani e non si lasciavano acchiappare. Capì che poteva orientare l'ombra spostando gli oggetti e la fonte della luce. Nei suoi esperimenti mangiò molte mele illuminate da torce o da luminatabro. Ebbe così la certezza di aver mangiato la loro ombra ma la cosa lo lasciò insoddisfatto. Guardò gli alberi con le fronde in perenne tremolio guardò gli animali che correvano via appena si sentivano minacciati dalla sua attenzione. Ma ormai aveva capito che la loro ombra non sarebbe stata diversa da quelle delle mele e degli altri oggetti. Guardò la propria ombra e provò il desiderio di raccoglierla ma per quanti sforzi facessi questi si ranicchiava e si allungava. Arrivava a toccarla sentendo la freddezza del cemento e delle case e la grandiosità dell'asfalto della strada o la polverosa umidità della terra che circondava le piante. Eppure non sentiva mai di cosa fosse fatta l'ombra. sottile come un foglio nera come la liquirizia silenziosa come l'acqua immobile struggente come una bolla di vapore acque sopra una piastra infuocata visibile a tutti eppure nascosta e inaccessibile. Desiderò non potendo prendere la loro ombra fondersi in essa. Cerco allora di radicchiarsi di schiacciarsi per terra di restare immobile silenzioso sturgente ai propri pensieri senza l'espiro senza colore senza desideri. Ma era un bambino e i suoi esperimenti cessavano al primo suono al primo bagliore di luce al primo richiamo. appena sentiva che parlava di lui e di qualcosa che avrebbe potuto fare con qualcun altro della famiglia dimenticava i suoi esperimenti saltava in piedi e correva a sentire e a farsi notare. Sono qui eccomi non dimenticatevi. Poi un giorno il papà e la mamma chiesero loro di spiegare sui lettini le cose e gli indumenti che volevano ripiegare le cose e gli indumenti che volevano portare in valigia perché sarebbero partiti per tre settimane in vacanza in Italia inutile dirvi che Marlise e Hans fecero una piccola montagna di vestiti cose essenziali dissero loro ma non so dirvi come lo dissero nella loro lingua se qualcuno lo sa lo scriva e in nota in questo punto lo scriviamo l'Italia senza dubbio sarebbe stato un paese noioso fatto di poeti col naso storto e imbroglioni con i capelli unti tre settimane erano un periodo che non finiva mai e poi non capivano perché i genitori si ostinavano ad andare in un posto del genere e non a Euro Disney a Copenhagen dalla Sirenetta o anche in un posto che si chiamava Gardaland che forse era dalle parti dell'Inghilterra e che sapevano essere molto divertente andavano oltre a Gardaland ma nessuno glielo disse si fermarono in Umbria in una casa di campagna tra le colline ripresero le passeggiate in bicicletta a piedi in automobili e nelle ore di gran calmo sotto il pergolato si scambiarono i giochi e le letture insieme a due signori di Colonia che abitavano in una di quelle case sulla collina di fronte visitarono tante chiese e tanti musei a Sansepolcro appresero di una madonna con il pancione e la sera si annoiavano ad ascoltare i commenti di quei signori e di quei genitori si divertivano però quando tutti e quattro i grandi prendevano i loro strumenti e chiedevano ad Hans di suonare il triangolo e a Marliss di accompagnarli con la voce di Brani di Schubert o di Britt non si divertivano così tanto nel giro di 4-5 giorni i bambini impazzirono ad aspettare con gioia il momento in cui altri ragazzi di Gualdo Tadino che vivevano nella casa più vicina passavano a chiamarli qualche volta ottennero anche di essere esonerati dalle gite quotidiane con i genitori riuscendo a trascorrere intere giornate a pescare in qualche ruscello a arrampicarsi sugli alberi a raccogliere fichi dolcissimi dovete ammettere Hans ad ascoltare i gruppi musicali di quel momento e a giocare con la Playstation i ragazzi parlavano lingue diverse questo non costituiva un problema Hans ormai non si ricordava più della ricetta del senso della vita Marlise forse perché più grande non ci aveva più pensato fatto sta che tre settimane passarono presto e il momento della partenza fu molto triste sulla strada del ritorno i genitori fecero loro una sorpresa si fermarono a Gardaland i ragazzi passarono tutto il pomeriggio a inseguire un gioco dopo l'altro e non si accorsero su quella stessa tavola troneggiava oltre alle cose già conosciute una splendida fruttiera piena di more di fragolini di bosco di fichi e di piccole mele aspre ma saporite le avevano raccolte i ragazzi italiani Hans nei giorni successive continuò a mangiare le mele ma solo di tanto in tanto ormai aveva scoperto che tante altre cose possono essere buone se solo scivolano con un'ombra dentro di te nei pochi giorni che bastano per far vivere felici gli altri bambini e a voi piace la frutta? mangiatene tanta che fa tanto bene ci vediamo domani per oggi ho finito con un'ombra